allora l'analisi tecnica come al solito i segnali ce li stava dando ce li stava dando da diversi giorni quindi eravamo con gli indici che erano giunti sull'orlo del panic selling ma non riuscivano a rompere i supporti no abbiamo visto preso come riferimento esempio per tutti le sempre 500 il famoso livello di 36 nasda che sempre 500 testano ripetutamente i supporti senza sfondare poi qui 13 giorni fa si piegano gli indici si piegano ma non si spezzano ancora poi c'è stato il tutto l'ambaradan causato dalla banca centrale d'inghilterra rinvio a questi video che insomma comunque hanno dato un sostegno ai bond che stavano crollando i bond governativi a cominciare da quelli in gran bretagna poi avevamo avuto segnali dall'euro che stava tentando il recupero della parità qui un consolidamento del rimbalzo tecnico un reversal island su scala intraday che poi vabbè è stato confermato solo su alcuni indici poi soprattutto il martello invertito che aveva fermato il ribasso questo è un video importante di venerdì scorso che consiglio chi non l'avesse visto di andarlo a vedere poi ieri doppi minimi sui bond quindi abbiamo continuato a vedere segnali di residenza no quindi anche qui banche centrali soprattutto la banca d'inghilterra che continuava a intervenire oggi ecco oggi è stato un altro segnale secondo me molto importante perché oggi c'era tanta attesa per i dati sull'inflazione negli stati uniti dati sull'inflazione sono stati pessimi ok quindi borse usa virano al rialzo nonostante il dato sull'inflazione oltre le attese wall street apre in netto rosso dopo il dato sull'inflazione oltre le attese e poi vira al rialzo quindi questo è un segnale puramente tecnico quindi iniziamo dai adesso vediamo quello che è successo cominciamo dai bond giusto per dare seguito a quello che abbiamo detto ieri questi sono i bond in gran bretagna ieri avevamo appunto ipotizzato una struttura di doppio minimo oggi è stata confermata soprattutto il gilt quindi il decennale inglese con questo questa candela gialla un rialzo importante che è andato a completare l'hammer di ieri e il tweezer bottom di due giorni fa e tre giorni fa quindi si consolida la possibilità di un doppio minimo che però ricordo che dal punto di vista tecnico scatta solo alla rottura del massimo intermedio quindi poi calcoleremo gli obiettivi ma qui verosimilmente ce ne andiamo se dovesse essere superata area 100 ce ne andiamo verso 112 così poi comunque lo misureremo con precisione quindi il fatto che i livelli qui in area 90 abbiano retto oggi un'ennesima giornata con partenza negativa quindi partenza all'interno del range di ieri però si è sviluppata tutta verso l'alto quindi il gilt regge bene e regge bene anche la sterlina vediamo oggi più 1 e 90 quindi completa il bullish engulfing di ieri confermando di aver fatto un minimo crescente rispetto al minimo del 27 settembre quindi questo è un segnale bullish anche qua adesso andiamo al test di 1 e 15 per la sterlina molto importante e veniamo alle borse questo famoso 3 6 di s&p 500 guardate oggi ecco oggi una giornata con un'apertura sulla notizia del dei dati sull'inflazione apertura gap a ribasso guardate dove abbiamo aperto meno 2 per cento abbondante di apertura e una chiusura mancano ormai 20 minuti alla chiusura quindi possiamo darlo per assodato che chiuderemo oltre il 2 per cento positivo quindi siamo passati da meno 2 a più 2 su a cavallo di un supporto fondamentale come 3 e 6 che era stato testato ripetutamente l'abbiamo detto non più tardi di ieri o avanti ieri abbiamo contato che erano sono stati sette tentativi senza successo di rompere 3 mila e 6 quindi oggi il movimento è stato puramente tecnico tecnico cosa vuol dire eccesso di venduto qui abbiamo tutte le martellate si cerchiate in rosso cioè sono tutti gli eventi che hanno dato una scossa negativa al mercato a cominciare dal 26 agosto dal famoso discorso di jackson hall e poi senza adesso che ogni volta andiamo a rifare l'appello chi segue lo sa questi sono stati tutti i dati sull'inflazione la riunione della fed le dichiarazioni di evans eccetera eccetera ogni volta martellate al ribasso ma non sono riusciti a superare questo famoso 3 e 6 quindi oggi un movimento tecnico impressionante di recupero credo di aver letto da qualche parte che nella storia movimenti del genere l'S&P 500 li ha avuti credo in totale cinque volte ok quindi questo è un key reversal si chiama dal punto di vista tecnico molto importante che se verrà confermato probabilmente segnerà a 3 6 un minimo importante e quindi rilancerebbe rilancerebbe se confermato i prezzi verso i test delle resistenze quindi poi lo vedremo molto importante il video di domani venerdì fine settimana perché vedremo tutti questi movimenti su scala weekly come si andranno a incastrare con l'inverte dammer di venerdì scorso che avevamo detto citando appunto avevo fatto vedere anche una pagina di un sito di divulgativo di analisi tecnica la figura di inverte dammer è una figura potenzialmente rialzista quindi già la settimana scorsa avevamo avuto un primo sintomo molto importante la chiusura di domani per cui non perdetevi il video di fine settimana tutti gli indici sono sopra gli indici americani sono sopra il 2 per cento vediamo il nasdaq per gli amici che seguono l'indice invece delle tf più 2 4 segna in questo momento stessa cosa sta andando a recuperare 19 che sembrava stesse per essere sgretolato cioè sgretolato perché sì nei giorni scorsi era stato no martellato ripetutamente oggi era stata un'apertura pessima e gap ribassista 10 4 e 72 e poi un trend dei con recupero di 10 e 9 vediamo il dax è a un passo dal recupero di 12 e 4 noi questi qui stiamo vedendo l'indice che chiuso ha chiuso le 17 e 30 quindi vedremo domani se anche il dax riuscirà a riportarsi sotto la soglia critica per il dax era 12 e 4 che è stata comunque messa a dura prova perché nelle ultime due settimane abbiamo stazionato parecchio sotto 12 e 4 e non possiamo considerare che il livello qui non sia stato rotto e dal punto di vista tecnico però il recupero sopra 12 e 4 sicuramente anche questo è un segnale positivo che andrà poi abbinato diciamo associato a quello che ho evidenziato qui con l'evidenziatore giallo questo movimento di lunedì 3 martedì 4 che è un comportamento simile a quello che nelle ultime tre circostanze su quattro ha dato il via a dei rimbalzi importanti ok tranne qui dove poi i dati sull'inflazione americana hanno piegato tutto verso il basso però movimenti con un momentum di breve così elevato anticipano spesso poi dei pullback più ampi ok quindi siamo sempre in una fase ribassista siamo sempre in un bear market siamo sempre tutto quello che volete ma vi ripeto ancora una volta quando in un bear market si forma troppo venduto e poi come una molla scattano le ricoperture e si va verso l'alto i movimenti possono essere importanti generalmente a due cifre quindi al dieci per cento quindi un dieci per cento qui significa che si può facilmente andare a rivedere come minimo l'area 12 e 9 fino a 13 e 4 questo per il dax quindi continuate a seguire perché adesso vediamo se questi segnali appunto troveranno un seguito nei prossimi giorni ecco questa è la novità di oggi direi non da poco e abbiamo visto nei video precedenti segnali forza dell'euro no l'euro che è stato da un trend che non infinito cioè veniamo da un ribasso ormai cos'è dall'inizio dell'anno quindi con questa discesa importante da 1 e 20 fino a 0 95 aveva dato anche qui una reazione importante da 0 95 fino a tentare di recuperare la parità questo ritorno a 0 97 anche nel caso dell'euro come del british pound da origine a un minimo crescente rispetto al minimo del 27 settembre quindi anche qui aumentano le probabilità di un nuovo test di area 1 e sarebbe impossibile sarebbe importante riuscire a recuperare questo vecchio trading range il vecchio trading range tra 1 e 1 0 3 sono tutti segnali tecnici importanti che potrebbero appunto dar vita a dei movimenti interessanti non attesi in questo momento dal mercato che invece chiaramente era sbilanciato dalla parte opposta quindi qui siamo in regime tecnico per cui molta attenzione come vi ho detto diverse volte nei giorni scorsi attenzione alla gestione delle posizioni short perché avevamo diversi segnali appunto che ci fosse un eccesso e che invece i prezzi non riuscivano a superare dei livelli che avrebbero dovuto diversamente invece violare al ribasso ecco veniamo alle richieste rapidamente per oggi questa è un po la giornata di oggi giornata importante e abbiamo ancora tempo quindi guardiamo le richieste un amico chiede di baidu fare un punto di situazione questi sono titoli del quotati al nasdaq però sono titoli di società basate in cina quindi sono stati soggetti a tutti i problemi che ben conoscete relativi a problematiche di quotazione a embargo a vi togliamo dal listing del nasdaq alle influenze politiche del governo cinese verso queste società tecnologiche quindi un bear market che è partito già nel 2021 per questo tipo di titoli e baidu non si è soppratta ecco abbiamo lasciato i segni rossi che avevamo tracciato l'ultima volta che abbiamo analizzato il titolo si stava c'era un accenno di un test e spalle rialzista che è stato negato infatti avevamo dato di tenere d'occhio come livello 125 è stato negato con la rottura di 125 quindi direi che questi segni rossi hanno fatto il loro tempo il baidu è andato semplicemente a ritestare i minimi in area 100 il momentum è ancora elevato al ribasso quindi la candela di oggi che è una candela di una belt la belt l'abbiamo vista diverse volte in passato e baidu su in area 100 le ha già fatte anche questa la possiamo considerare una belt nel mese di marzo 2022 qui c'è un bullish engulfing quindi questo è un livello dove fino a questo momento i venditori hanno lasciato il passo ai compratori e quindi da qui poi sono partiti dei rimbalzi questa candela di oggi è promettente una candela non fa trend vediamo se verrà confermata la candela belt è una candela cintura no traduzione sarebbe un'apertura gap al ribasso importante poi una candela estesa verso l'alto di contrattacco non riesce a ricoprire i range dei giorni precedenti però comunque l'estensione è ampia e quindi va trattata con molto rispetto siamo molto vicini agli earning per baidu che gli earning sono per la fine di questo mese quindi direi che per il momento all'amico importante area 100 ovviamente è quella da seguire siamo in una situazione di momentum crescente però di eccesso il dmi negativo ha valori molto elevati anche questo è un segnale di eccesso da questi valori in passato baidu ha rimbalzato ok quindi direi che per il momento l'analisi tecnica non ci dice molto altro così come non ci dice molto su meta un altro titolo che ha subito dei ribassi importantissimi vediamo un attimo comprimiamo la scala qui dobbiamo addirittura passare su scala logaritmica per vederlo un po meglio per vedere un po quello che è successo questa con la pubblicazione degli utili del mese di febbraio 2022 questo mega gap al ribasso meno 20 per cento in un giorno ve lo ricorderete ha dato il via al bear market come spesso accade no quando diciamo sempre attenzione la dimensione mentre posizioni quando comincia a scricchiolare no ma io poi tanto poi ho lo stop se si qui lo stop meno 20 per cento ok qua non c'è stato prezzo qua in mezzo questo questo mega gap non è stato più ricoperto nelle settimane seguenti quindi ecco perché le posizioni vanno sempre gestite con prudenza senza contare automaticamente sugli stop loss soprattutto su strumenti come questi dove c'è il rischio overnight cos'è il rischio overnight? il mercato del cash chiude alle 22 e 30 e prima delle 15 e 30 del giorno dopo non riapre sì poi ci sono le preaperture si possono fare tante altre manovre però c'è molta meno liquidità in quei momenti quindi il mercato cash se registra poi dei gap ribassisti del genere è così quello che c'è in mezzo non c'è stato quindi lo stop loss a 280 giusto per dare dei numeri di quello che avrebbe potuto essere un uno stop loss tecnico piazzato nel mese di generale 2022 uno stop loss puramente teorico con uno slippage come si chiama in gergo poi di ben 40 dollari quindi ecco questo un inciso allora da lì è partito questo bear market siamo andati a testare niente poco di meno che i minimi di marzo 2020 e ancora prima di dicembre 2018 dove c'è stato l'altro mini bear market per chi se lo ricorda quindi questi sono livelli molto importanti per meta e direi che qui ci stiamo arrivando in situazione di assoluto stretch basta vedere la distanza dalla media 200 anche qua oggi candela di reversal con un bullish engulfing una candela non fa trend però se tanto mi da tanto considerando livello di supporto a 120 che abbiamo visto considerando la vicinanza degli earnings qui il rimbalzo sarebbe il minimo sindacale ecco quindi per questo titolo con una situazione poi da rivalutare soprattutto dopo la pubblicazione degli earnings per vedere se emergono delle novità che possano invertire un trend che in questo momento è marcatamente ribassista e non vediamo dal punto di vista tecnico segnali di reversal di lungo respiro ecco a parte questi segnali che sono di breve ecco lo dico e lo ripeto va bene direi è tutto per oggi grazie come sempre del supporto ai canali abbiamo avuto dei problemi sul di caricamento del video sul su trading view spero che siano risolti oggi proveremo a caricare i video su trading view li trovate comunque quelli dei giorni scorsi tutti sul canale youtube consiglio di iscriversi al canale youtube in modo appunto da non perdere in ogni caso anche in caso di problemi tecnici gli aggiornamenti per i video serali quotidiani che pubblichiamo grazie dell'attenzione appuntamento a domani non perdetevi il video di domani analisi su candele settimanali per il momento buona serata a tutti e grazie come sempre dell'attenzione e del supporto